Ciao a tutti amici! Ci ritroviamo di nuovo qui da Guitar Point, oggi per presentarvi una novità incredibile. Sono appena arrivate, ve le presentiamo in anteprima, le nuovissime Tokai serie Special Edition, bellissime, col top in Acero AAA super selezionato, tastiera in ebano, parliamo di una chitarra ovviamente in stile Les Paul, niente a che invidiare alle Gibson Custom, quelle super importanti, solo che queste chiaramente costano meno. Diciamo che se dovessimo leggere sulla paletta il nome Gibson, almeno un bel 50-60% in più glielo dovremmo anche considerare, per parlare del fattore prezzo. Queste sono le chitarre straordinarie fatte appunto in serie limitata e suonano in maniera incredibile. Abbiamo il nostro amico Simone che ora ci fa sentire qualcosa sia con suoni tranquilli e sia anche con suoni un po' più decisi, ok? Bye Simo! Abbiamo il nostro amico Simone. Abbiamo il nostro amico Simone. Abbiamo il nostro amico Simone. una chitarra super confortevole devo dire se non fosse per la scritta d'okai penso che non si avvertirebbe una differenza assolutamente con una gibson americana esteticamente straordinariamente bella devo dire che ha dei materiali dei legni una qualità costruttiva altissima al pari sicuramente anche delle migliori gibson parliamo anche di una chitarra che ha una finitura nitrocellulosa quindi così come sono fatte le gibson custom chiaramente anche come rapporto qualità prezzo siamo assolutamente vincenti il corpo in mogano che fra l'altro anche una bellissima maschiatura posteriore la facciamo vedere guardate qua che cosa c'è niente uno spettacolo niente sono già disponibili da guitar point per cui vi invitiamo a venirci a trovare a venirle a provare ok